Grazie alla Nardone 20 ancora una volta il Palamagetti di Roseto degli Abruzzi a neanche un mese di distanza ha ospitato altri campioni del calcio del recente passato. Da Francesco Ototti e le Summer Soccer Stars alla partita tra Juventus Legends e Milan Legends che ha ancora di più gremito gli spalti dell'impianto di Via Salara. Lunghe code già prima dell'evento con la speranza degli appassionati di strappare un selfie o un autografo. Vittoria per la Juventus ma il risultato non conta. Conta aver divertito gli sportivi ed essersi ritrovati per una giornata di festa. Oddo, Amelia, Giunti, Ambrosini, Brocchi in rosso nero, Zampagna di Livio, Chimenti, Pepe in bianconero con passerelle anche per i tre sindaci del circondario. Nunes di Roseto, Costantini di Giulianova e di Bonaventura di Notaresco. Ma la star il più cercato è stato Alessandro Del Piero che si è concesso ai nostri microfoni prima dell'esibizione. Le emozioni rimangono legate a quello che è successo con quella maglia, quindi riindossare è sempre piacevole. Però il ricordo, il pensiero va a quello che ho passato insieme ai colori della Juve, quindi sarà emozionante in mia mente. Hai fatto dei nomi decisamente, come si può dire, importanti. Massimo abbiamo vinto il mondiale insieme, adesso Verratti, Fabio lo stesso che ha segnato con me nella semifinale. Quindi sono momenti entusiasmanti quelli che ci legano con loro. Verratti è incredibile quanto sia bravo. Un anno dalla morte di Gian Piero Bonifetti. Sono legato anche alla famiglia, conosco bene i figli e i nipoti suoi ed è una famiglia stupenda. Manca, manca una presenza come la sua, una personalità come la sua, un temperamento.